Ciao Riccardo. Ciao. Tu hai mai fatto un corso sulla sicurezza? Sì, da pareti. E com'è che sono solitamente? Di solito sono abbastanza noiosi. Ma perché sono noiosi? Perché sono spesso ripetitivi e monotoni, diciamo, poco interessanti. Ma in questo corso ti sei annoiato? No, in questo voglio dire di no, perché diciamo che è un po' più interattivo e meno noioso rispetto agli altri. E secondo te l'utilizzo delle checklist e dei principi della sicurezza comportamentale possono cambiare il livello di sicurezza in azienda? Sì, assolutamente sì. In questo metodo sì. Quindi te adesso pensi che la radius migliorerà il livello di sicurezza? Ma io sono convinto di sicurezza. Ma dici che è un metodo che può essere applicato anche in altre aziende? Sì, assolutamente sì. Secondo me sì. Ottimo, grazie mille allora. A te. Ciao. Ciao, ciao Riccardo. Ciao.